Torna nell'occhio del ciclone la LEA, società di gestione dei rifiuti di Marcianisi, avrebbe interrato Veleni a Santa Maria Capoavetere e sequestrato un capannone. Qui, secondo la procura, erano interrati i rifiuti che potrebbero aver inquinato la falda acquifera a svelzarli la LEA, guidata da un imprenditore già arrestato pochi giorni fa per una vicenda analoga. Enzo Perone. Vai. Stiamo entrando in un capannone dismesso a fianco allo stir di Santa Maria Capoavetere. Stiamo cercando dei rifiuti che sono stati qui interrati in modo del tutto abusivo ed illegale. Questi sono dei televisori di un'altra epoca con il tubo catodico a valvole. andavano dismessi ovviamente in discariche autorizzate perché il tubo catodico all'interno ha mercurio. C'è della plastica, ci sono dei cavi, dei cavi di plastica, di rame, degli spazzoloni. Un altro invaso dove troviamo dei rifiuti, dei rifiuti che l'ARPAC stabilirà, di che natura sono. Degli involucri è scritto attenzione, contiene amianto. Cosa possono essere? Questi sono i big bag che vengono utilizzati appunto per la raccolta e di trasporto di materiale contenente amianto. C'è il pericolo che contenga ancora fibre aerodisperse. Si faranno su disposizione la procura dei carotaggi per capire rispetto al sottosuolo se c'è stata una contaminazione della falda acquifa. Assolutamente. È possibile che i rifiuti siano entrati nel sottosuolo e abbiano inquinato, abbiano creato danni all'interno del sottosuolo. Siamo all'interno dei comuni della Terra dei Fuochi, quindi questo, se possibile, aggrava ancora di più il tutto. Questo sequestro prende le mosse dall'inchiesta sul gruppo Lea di Angelo Egisto, arrestato insieme a un suo dipendente per gestione illecita di rifiuti e inquinamento ambientale. Egisto, secondo l'accusa, vinceva gli appalti di molti comuni del Casertano e del Napoletano. I rifiuti non li conferiva gli impianti secondo le norme sullo smaltimento, ma li interrava nei posti più disparati con la complicità di aziende intermediarie e dei proprietari degli sversatoi abusivi. Da quello che veniva raccontato nel famoso Gomorra ancora ad oggi, consapevolezza ambientale da parte di questi delinquenti proprio non ce n'è. Siamo in modo sbigottito alla circostanza che tuttora si usano le stesse metodiche, che sembrano un rimedio facile, non dispendioso, che crea vantaggi all'azienda che in tal modo si libera dei rifiuti, ma che crea dei danni inestimabili ambientali per l'intera popolazione e a ciò bisogna ribellarsi. Grazie.